Questo video riguarda i migliori 3 antenne TV. Il vincitore della qualità è il Tevose Antenna TV. Tagliare il cavo e godere per sempre centinaia di top programmi TV HD gratuiti, tra cui Sky, BBC, ITV, DW, N24, WDR, Francia TV, RAI, RTV e molto altro, Antenna TV con amplificatore Tevose è compatibile con scatole del convertitore TV e centinaia di TV digitali. Con un raggio di 480 km, anche se è lontana dalla torre di trasmissione, può fornire una portata più ampia e una ricezione massima dei segnali. Il cavo coassiale super lungo e ad alte prestazioni garantisce consente di posizionare l'antenna amplificata in qualsiasi luogo in casa per il miglior segnale e la ricezione più potente, fornendo un'ottima esperienza TV gratuita. Puoi posizionarla a caso, oppure appenderla semplicemente. It can decorate your home and receive stronger signals, l'antenna rende la vita semplice e conveniente. Rimborso di 360 giorni e garanzia a vita è la tua scelta. Il raggio di ricezione effettivo dipende in gran parte dalla distanza e posizione dell'utente. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Boyoy Antenna TV. L'antenna TV interna può sbarazzarsi dell'elevato costo di guardare la TV digitale, goditi live HD gratuite, qualsiasi notizia locale, meteo, commedie, programmi per bambini e sportivi. L'antenna interna è facile da installare. Basta collegarsi alle porte ambarra in DHD TV o set top box, alimentare le antenne collegando il connettore USB a una porta di ricarica sul televisore o alla presa con l'alimentatore. Ricorda di ripetere la scansione dei canali dopo aver spostato l'antenna interna. Antenna TV con amplificatore di segnale di nuovo tipo con chip PC intelligente integrato con tecnologia di filtraggio RF a picco pulito, che filtra le potenziali interferenze dai segnali cellulari e FM nell'area. 150 più miglia che forniscono una portata maggiore e la massima ricezione del segnale per più canali anche se sei lontano dalle torri di trasmissione. Il cavo quassiale extra lungo ad alte prestazioni assicura che l'antenna amplificata possa essere posizionata praticamente ovunque in casa. Il vincitore del premio è il Mi One Antenna TV. L'antenna HD TV ti consente di godarti centinaia di programmi gratuiti, tra cui ci sono Sky, BBC, ITV, DW, N24, WDR, France TV, RAI, ARTV e tanto altro. Grazie all'amplificatore segnale incorporata con l'ultima generazione di chip questa antenna HD TV può raggiungere fino a 120 miglia, ti dà anche un'immagine più chiara, un basso livello di rumore e l'accesso a più canali HD gratuiti. Basta collegare due cavi, uno USB per l'alimentazione e uno per l'antenna da inserire sul televisore e poi ricerca i canali. Fornita con un cavo quassiale di 3,7 M, l'amplificatore 0,7 M, per poter posizionare l'antenna comodamente nella zona della casa con la migliore ricezione. Dimensioni 210 X 120 X 0,7 mm, con gli adesivi si è possibile attaccare l'antenna al muro o alla finestra in modo da non limitare la ricezione dell'antenna. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.